Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6 in apertura ai problemi legati al credito per le piccole imprese. Un credito sempre più difficile da ottenere, almeno questo secondo i dati diffusi dalla CNA sul credito in Abruzzo presentati grazie a uno studio realizzato da Donato Ronci in base ai numeri diffusi dalla Banca d'Italia. Sentiamo l'intervista di Paolo Rezzetti. Il credito bancario in Abruzzo, i dati della Banca d'Italia e del Dottor Ronci dicono che la ripresa non c'è stata, numeri negativi Presidente Lupo? La ripresa non c'è stata sia dal comparto economico delle imprese, ma non c'è stato soprattutto da parte del credito erogato dalle banche, perché c'è stata una diminuzione del credito rispetto agli anni scorsi, al trimestre precedente, questi sono dati del quarto trimestre, c'è stata una diminuzione di 228 milioni di Euro, gli alti indici dei tassi di interesse che sono molto al di sopra di quello del livello medio nazionale. Il livello medio si aggira in Abruzzo intorno all'8%, mentre in Italia è sotto il 5%, per cui questo si ripercuote soprattutto sulla richiesta e quindi la domanda di credito da parte delle imprese. Il dato irreversibile è questo, che le piccole banche abruzzesi non ci sono più, sono state tutte assorbite da grandi banche, che non essendo a conoscenza del territorio, delle esigenze del territorio, si pongono in una situazione di lontananza rispetto alle esigenze del territorio. Quindi il credito concesso dalle BBC è sicuramente molto, tendenzialmente alto, ma i numeri sono relativi e sono sempre piccolini rispetto al dato agglomerato. Voltiamo pagina adesso per occuparci dei temi relativi all'immigrazione. A Montesilvano è stato presentato il nuovo piano per l'accoglienza degli immigrati. Sono 160 circa i posti a disposizione per i richiedenti asilo o per i rifugiati. Sentiamo Francesca Romana Testi. Il Comune di Montesilvano presenta in dettaglio le nuove modalità di accoglienza per gli immigrati. Come annunciato tempo fa, si tratta di una rivoluzione che punta ad una gestione controllata e limitata nel numero di persone e soprattutto nelle attività alle quali si terranno richiedenti asilo e rifugiati. Finalmente possiamo dire che il Consiglio Comunale ha provveduto all'approvazione delle linee guida per far partire lo SPRAR, il sistema di accoglienza di secondo livello per i richiedenti asilo sul territorio. È un progetto molto ambizioso. Montesilvano è l'unico comune in Abruzzo di queste dimensioni ad averlo attivato. Questo comporterà immediatamente la chiusura dei due casse e dei due alberghi che sono oggi presenti sul territorio, sulla riviera e ospitano i migranti. Il numero verrà ridotto notevolmente. Quindi anche la qualità dell'offerta dei servizi cambia completamente ma soprattutto la collocazione verrà sparsa su tutto il territorio, quindi a macchia di liopardo per consentire di non avere più quelle aggregazioni che tanto preoccupano i cittadini e che tanto preoccupano anche le forze dell'ordine perché possono creare dei problemi di ordine pubblico. La prima rivoluzione riguarda il numero 161 in tutto. Un numero dettato dal governo che si basa su una proporzione di 2,5 richiedenti per ogni 1.000 abitanti. La seconda notizia riguarda le modalità di accettazione e di accoglienza. Sarà obbligatoria la sottoscrizione di un contratto che mette in chiaro tutte le attività da svolgere, scuola da frequentare per imparare l'italiano, attività di pulizia all'interno delle strutture che ospitano, lavori socialmente utili sul territorio di accoglienza totalmente gratuito e la vigilanza di tutte queste attività in ogni parte della giornata. Il non rispetto di questi dettami costerà la revoca di asilo e l'allontanamento dal territorio in questione. Nessuna struttura interna dallo Sprar potrà infine ospitare immigrati in alcun modo, vedasi hotel o altre strutture che fino ad oggi hanno dato ospitalità a centinaia di persone. Cambiamo ancora argomento. L'Abruzzo conta un ritardo di 20 anni per quanto riguarda la legge che tutela le aree protette. Dal 1996 ad oggi non è stata apportata alcuna modifica alla normativa. Le associazioni ambientaliste per tutelare la biodiversità hanno presentato in Regione Abruzzo una proposta di legge per colmare le lacune tuttora vigenti. Vediamo il servizio. La legge sulle aree protette regionali abruzzese è una legge di 20 anni fa. Una legge che nasceva quando gli altri parchi nazionali, oltre a quelli di Abruzzo, si stavano costituendo. Molte riserve regionali non esistevano. Partiva allora l'applicazione delle direttive europee abitati e uccelli per la conservazione della biodiversità. Oggi c'è sostanzialmente un quadro mutato. C'è un parco regionale che deve trovare ancora, purtroppo, dopo tanti anni, un suo assetto, un suo equilibrio definitivo. C'è la necessità anche di dare una maggiore tranquillità al sistema complessivamente, anche dal punto di vista delle risorse. Le riserve regionali vivono in una situazione di precarietà continua, con la necessità di ridiscutere continuamente le risorse a loro disposizione, in un quadro che è quello nazionale, che in questi anni è stato difficilissimo. Devo dire che la regione Abruzzo, nonostante queste difficoltà, ha conservato una sua disponibilità nei confronti di finanziamento, nei confronti delle aree protette regionali. Credo che però dobbiamo fare lo sforzo per dare una maggiore tranquillità complessiva a questo sistema, per fare un lavoro che sia più efficace per tutti. Cosa vi aspettate dopo questa proposta di legge proprio da parte della regione Abruzzo? Intanto che le nostre proposte vengano prese in considerazione, all'interno di quello che sarà un percorso ovviamente che coinvolgerà il Consiglio regionale, i gruppi regionali e che, ecco, mi auguro solo che non rimangano lettera morta, insomma, che non finiscano nel dimenticatoio, ma che questa proposta di legge regionale, a cui mi pare l'assessore regionale tenga molto, venga seguita adeguatamente nel percorso del Consiglio regionale e venga approvata più presto. Sempre in tema di ambiente, ambientalisti e amministrazione comunale di Pescara sono ai ferri corti sul caso della potatura del verde pubblico. Dopo la bagarre di qualche mese fa, oggi, gli attivisti rendono note le denunce nei confronti di sei di loro, accusati di interruzione di pubblico servizio e denunce che definiscono intimidatorie. Una lunga battaglia tra l'amministrazione comunale di Pescara e le associazioni ambientaliste ha tenuto banco per mesi sul caso potatura e abbattimento degli alberi. Una lotta votata alla salvaguardia del verde pubblico per limitare al massimo i tagli e, dall'altra parte, il comune che cercava di provvedere alla salvaguardia dell'incolomità pubblica contro il rischio crolli di alcuni alberi. Una bagarra che ha visto cittadini ambientalisti schierarsi davanti agli alberi pur di bloccare l'intervento dell'amministrazione. A distanza di mesi si scopre che di centinaia di cittadini intervenuti solo sei persone si sono viste recapitare una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Un caso che i protagonisti definiscono atto intimidatorio e insensato. Come dire, punirne sei, colpirne sei per educarne tanti perché una volta che i cittadini comuni si vedono arrivare un avviso di indagini concluse, un avvio di un procedimento penale tra l'altro ricordo un procedimento per interruzione di pubblico servizio è punibile con la reclusione da 1 a 5 anni. E quindi questo che significa? Che un cittadino a questo punto un'altra volta magari ci pensa 10 volte prima di scendere in piazza a protestare anche giustamente. Ora, la protesta è un diritto. Noi abbiamo condotto una battaglia pacifica e civile. Abbiamo salvato parecchi alberi, alcuni addirittura monumentali. E tutte le nostre ragioni oggi sono state supportate dal consulente esterno Dottor Sani che in questi giorni ha depositato una relazione su degli esami strumentali che noi abbiamo voluto, che il Comune poi in realtà ha concesso dopo il braccio di ferro e il Dottor Sani di questi ultimi 20 alberi rimasti in piedi ha detto che non c'era pericolo, non c'è pericolo, sono stabili anche se alcuni sono veramente messi male, ma per cattiva potatura, per gestione pessima negli anni di tutto il patrimonio verde. Cosa volete dire ora al Comune? Noi ci auguriamo che finalmente, non a chiacchiere, si apra questa consulta che si apra una nuova pagina per Pescara. Chiudiamo questa bruttissima pagina, apriamola una nuova e cerchiamo di tutelare il nostro patrimonio perché il patrimonio arborio ha un'importanza oltre che paesaggistica e naturalistica, ma anche sanitaria. Cambiamo argomento, l'edilizia scolastica è stata al centro di un convegno a Scoppito. Germana Dorazio Obiettivo? Scuole sicure. È stato questo il tema del convegno sull'edilizia scolastica con grande partecipazione nel Comune di Scoppito che ha fatto il resoconto del lavoro fatto dall'amministrazione sull'edilizia. Un nuovo asilo nido è una realtà e sarà già pronto tra due mesi. Sono ripartite poi le procedure per l'affidamento della nuova scuola centralizzata dopo il blocco per il nuovo codice degli appalti. L'obiettivo è dare ai bambini di Scoppito tutte le scuole con un indice di vulnerabilità maggiore di 1 entro 36 mesi. Il punto più importante del programma è la realizzazione della nuova scuola centralizzata. Abbiamo ottenuto un finanziamento nel 2016 e stiamo ancora nella fase della preparazione delle gare a causa del nuovo codice degli appalti che ha di fatto paralizzato i piccoli comuni. Comunque abbiamo già concluso la gara per la progettazione e contiamo entro l'anno di affidare i lavori. Quanto è importante continuare l'attività amministrativa perché non si fermino queste procedure? Io direi che è fondamentale perché questo è un progetto che nasce con questa amministrazione e che ha ricevuto in passato anche critiche sotto certi aspetti infondate. Non c'è identità di vedute nel territorio su questa opera almeno da parte di chi è all'opposizione ma c'è una sostanziale approvazione da parte dei cittadini, dei genitori e dei bambini. Quindi questo ci basta. Costruiti mediamente 40 anni fa in alcuni casi con cemento impoverito o con vulnerabilità sismica medio elevata. In Abruzzo sono in questa condizione tre ospedali su quattro secondo quanto riferisce a Nao Assomed l'Associazione dei Medici e dei Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale che ritiene le strutture inadeguate dal punto di vista strutturale e chiede con urgenza un piano di edilizia sanitaria che tenga conto delle reali esigenze dei pazienti e sia al riparo dai campanilismi. Basterebbe rispolverare, dichiara in una nota Filippo Gianfelice, segretario abruzzese della Nao Assomed uno studio dell'INGV, gruppo nazionale per la difesa dei terremoti che nel 2005 denunciava carenze e situazioni estreme persino degli edifici a vulnerabilità alta più marcata addirittura il 60% in Abruzzo e costruiti con cemento armato. Di edilizia ospedaliere e sostenibilità economica dei progetti si parlerà in un convegno che viene promosso da Nao Assomed Abruzzo in collaborazione con l'Associazione Culturale L'Arca e che si terrà venerdì 28 aprile alle 15.30 al Blue Palace di Mosciano Sant'Angelo. Venerdì 28 aprile sempre si voterà per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club di Teramo due le liste che si contendono la presidenza di un ente che è considerato tra i migliori dieci Automobile Club d'Italia. Intanto il presidente uscente di Gianluca annuncia che la Mille Miglia tornerà a correre sulle strade terramane. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Si infiamma la corsa alla presidenza dell'Automobile Club di Teramo due le liste contrapposte una capitanata dallo sfidante Carmine Cellinese medico di Atria e fondatore della scuderia Autostoriche Cast e l'altra dal presidente uscente Vincenzo Di Gianluca avvocato terramano con alle spalle una gestione decennale decisamente virtuosa di un ente che figura tra i dieci migliori Automobile Club d'Italia. Lei è pronto a guidare il nuovamente Laci per i prossimi quattro anni. Come lo farà questa volta? Ma guardi, i criteri di gestione sono sempre quelli una gestione improntata alla massima economicità e trasparenza. Forse dal 2019 avremo la possibilità di spendere un po' di più. Noi avremo un'entrata patrimoniale di circa due milioni di euro a costo zero in base a un contratto che io a suo tempo feci con Api dove noi cedemmo il terreno di Villa Tordigna insieme a un progetto approvato per la realizzazione di una stazione di servizio con l'accordo che dopo 12 anni quell'impianto sarebbe tornato a noi. Vogliamo parlare della Mille Miglia? Tornerà a Teramo? Dunque, la Mille Miglia sono state dette molte falsità addirittura il candidato presidente dell'altra lista ha detto addirittura che la Mille Miglia non passa a Teramo per colpa dell'Aci io non capisco. La Mille Miglia non è passata più da Teramo innanzitutto nel 2016 per il problema del giubileo. Io ho qui la documentazione, la corrispondenza epistolare con la società che organizza la Mille Miglia la quale questa società dice che con Teramo non c'era nessun problema. Dunque, secondo la promessa fatta al presidente di Gianluca dal patron Giuseppe Cherubini, la storica Mille Miglia tornerà nel 2018 con grande probabilità a correre sulle strade di Teramo esclusa prima per il giubileo e poi per il sisma. Per il rinnovo delle cariche sociali si voterà venerdì prossimo e in caso di vittoria del presidente uscente di Gianluca quest'ultimo annuncia un avvicendamento tra un anno con il vicepresidente Vincenzo Montani. 12 anni nel consiglio di amministrazione dell'Aci di Teramo che esperienza è stata la sua? Beh, è stata un'esperienza sicuramente positiva confesso che nel momento in cui sono arrivato conoscevo poco dell'Aci se non quello che conoscono tutti i comuni cittadini poi invece ho vissuto una realtà veramente bella iniziando nel periodo del professor Sorgi dello storico presidente dell'Aci e poi proseguita dall'avvocato di Gianluca per cui ho avuto modo di conoscere l'impegno soprattutto nell'educazione stradale profuso dall'ente che devo dire è probabilmente una delle cose più apprezzabili che viene fatta. Ed ora ci spostiamo sul Gran Sasso è stata una stagione invernale disastrosa per la stazione sciistica che ha avuto diversi problemi ovviamente quelli del terremoto e del maltempo ma anche dei problemi relativi alla seggiovia delle fontari sentiamo il servizio Il Gran Sasso ha chiuso quella che è stata definita la stagione più disastrosa degli ultimi vent'anni con il pieno di sciatori il sole a picco sulle piste ben innevate gli impianti di risalita hanno chiuso i battenti per questa stagione una stagione da dimenticare dice Luigi Faccia della scuola sci una serie infinita di imprevisti che ha fatto ritardare l'apertura della stazione prima per mancanza di neve poi per la neve abbondante e il terremoto che sono stati la causa scatenante delle valanghe che hanno interrotto la linea elettrica che alimentava la stazione stessa e quindi è stata rinterrotta a seguire il problema della mancanza di acqua a causa del congelamento della tubazione volante che dalla sorgente scontrone alimentava il serbatoio a monte delle strutture ricettive una serie di problemi tecnici sulla seggiovia Fontari hanno poi imposto una serie di stop alla stagione invernale che appunto si è appena conclusa ieri il 25 aprile è stato l'ultimo giorno di funzionamento per la seggiovia Fontari e l'ultimo giorno di servizio al banco di manovra per Paolo Barone che per 23 anni ha condiviso gioie e dolori come macchinista oggi si stacca la spina ad una stagione disastrosa vergognosa da terzo mondo usciamo da questo incubo con le ossa rotte senza speranza commenta ancora su Facebook il direttore della scuola sci di Assergi Granzasso Luigi Faccia torniamo a Pescara ora dove ci sarà l'appuntamento con la mostra del fiore che presenterà diverse novità nell'edizione 2017 il via nel weekend al Marina di Pescara questa mattina la presentazione dell'evento presso la Camera di Commercio Presidente Beci torna alla mostra del fiore al Marina di Pescara un altro grande appuntamento questa sesta edizione è un'edizione che è ricchissima di partecipazioni 200 e passa operatori che saranno qui nella nostra città 150 circa vengono dalla regione oltre una 55 se non sbaglio arrivano da fuori regione quest'anno si aggiunge alle 15 regioni presenti si aggiunge a una nuova regione che è la Sardegna per cui sono numeri anche questi molto importanti ci sarà l'ennesima manifestazione del campionato europeo dei florovivaisti con 7 paesi presenti ci fa particolarmente piacere che di queste 8 squadre provenienti da 7 paesi 2 squadre siano addirittura russe per quanto ci riguarda come associazione dei produttori florovivaisti abruzzesi posso portare due novità cioè una legata ad un'area comune nella quale sporranno 18 aziende produttrici della nostra regione ricreando così una fotografia uno spaccato della produzione stessa e la seconda invece riguarda le aziende che oltre a produrre allestiscono verde e lì dedichiamo un concorso simulando diciamo l'allestimento di una rotatoria la cosa che ci fa a me sperare sono tre giornate di bel tempo previste sperando di recuperare anche il cattivo tempo dell'anno scorso ed ora apriamo la pagina dello sport iniziando dalla Serie A e quindi dal Pescara doppia seduta di allenamento oggi per il Delfino atteso dalla trasferta di Cagliari di domenica prossima mancherà Biraghi squalificato dal giudice sportivo per un turno che sarà sostituito da Crescenzi potrebbe essere convocato invece l'attaccante Alberto Girardino ma per lui ci dovrebbe essere la panchina due giorni fa Zeman aperto ad una possibile permanenza dell'esperto centravanti intanto sul futuro del Pescara del tecnico Boemo ci sarà il gioiellino Coulibaly che andiamo ad ascoltare nella prossima intervista ma questo lo confermo ancora rimarrò ancora a Pescara io rispetto alle gare precedenti anche tu però sei stato un po' coinvolto nel grigiore generale rispetto alle altre gare forse hai avuto qualche problema in più sia oggi che nella gara dell'ultimo turno perché tutti quanti i modi conoscono tutti quanti ti aspettano pure perché hanno visto la partita quella del Milan e sanno che posso fare qualcosa quindi tutti quanti non è che ti lasciano così a giocare ma tranquillamente fanno come fanno con gli altri lo ha detto anche Zeeman Koulibaly un giocatore su cui si può lavorare in vista della prossima stagione eh sì ma noi dobbiamo giocare fino alla fine dobbiamo fare fino alla fine dopo che arriva in Serie B sì giochiamo in Serie B ma siamo in Serie A giochiamo in Serie A quello è il problema ma io sto giocando in Serie A non è che penso adesso in Serie B devo fare le ultime partite devo fare tutto che devo fare mi ha donato perché lui lo vede così io non è che mi devo paragonare di Paul Pogba io sono un giocatore quindi faccio quello che devo fare e dopo dopo è così l'obiettivo è quantomeno abbandonare quest'ultimo posto in classifica come te l'ho detto prima le partite che vengono ma dopo le dobbiamo vincere tutto perché come abbiamo giocato con la Roma non è che abbiamo giocato male però erano più forti di noi quindi abbiamo perso sia se giochiamo come le ultime 4 partite 5 partite che hanno fatto possiamo fare qualcosa e adesso scendiamo in Lega Pro si complica la strada verso la salvezza per il Teramo dopo la vittoria del Sud Tirol contro il Parma i Biancorossi potrebbe non bastare vincere le ultime due partite di campionato un pareggio nella prossima giornata tra Modena e Mantua taglierebbe fuori la squadra di Ugolotti il difensore Nebil Kaidi teme il cosiddetto biscotto ma io penso che dobbiamo concentrarci a queste due partite pensare pensare a noi anche se purtroppo non basta pensare a noi perché come è inutile che come sapete anche voi il Modena con un punto è salvo quindi e il Sud Tirol la partita dopo col Mantua è già salvo e quindi purtroppo lottiamo contro una malattia che c'è in Italia quindi se questo campionato eravamo in Inghilterra qualche parte potevi dire se fai due vittorie probabilmente ti salvi invece non è così e quindi il Tirol prima di tutto deve pensare a battere il Parma perché stiamo parlando di una squadra seconda in classifica con un momento che vive un momento di difficoltà ma comunque con dei giocatori di serie B e quindi sarà sicuramente stimolante e bello comunque provare a battere una squadra di quel calibro poi penseremo alle pari successivi non è che io non voglio assolutamente mettere in dubbio la professionalità dei 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 giocatori di Mantua e Modena perché ci mancherebbe ho tutto il rispetto nei loro confronti quando vado avanti faccio i danni ho fatto domenica ho avuto anche una bella opportunità alla fine che magari se c'è un attaccante la stoppava con la palla c'è un po' di rammarico però non ci penso proprio gli attaccanti nostri sanno bene fare il loro lavoro e purtroppo è un periodo che si fa fatica però non non dobbiamo assolutamente mollare niente ecco noi comunque come ripeto dobbiamo pensare a noi perché è un comunque momento delicato del campionato e comunque arrivare a un eventuale play out dopo due belle vittorie sarebbe comunque stimolante arrivare con comunque piazzati meglio è una cosa importante comunque non ci voglio ancora pensare perché bisogna pensare veramente giorno dopo giorno quasi perché è importante lavorare e vincere domenica intervenuto a Teramo per presenziare al premio Rodomonti il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina ha parlato del nuovo format dei play off da lui voluto e ne aspetta l'inizio per verificarne la bontà sentiamo Andrea Costantini Presidente lei ha voluto una riforma dei play off che tra poco insomma vedrà la sua espressione intanto se la sente già di tracciare un bilancio su quello che è stato lo sviluppo di questi campionati sapendo che metà delle squadre di ogni girone potevano avere accesso ai play off beh credo che il risultato ormai è un risultato che si può è sotto gli occhi di tutti si può toccare con mano il risultato che tranne il Foggia nel girone C e il Venezia nel girone B verdetti a due giornate della prima del campionato non non ci sono che significa che ogni squadra è impegnata quindi la competizione sportiva è una competizione molto alta una competizione di grande qualità tutti sono impegnati e devo dire è un ottimo calcio abbiamo incrementato tantissimo il numero degli spettatori e mancano ancora tantissime gare circa 30 40 50 gare di play off il calcio è in crescita la Liga Pro sta dando un grande impulso in questa direzione quindi io sono davvero molto curioso di testare questa fase finale dei play off per capire se la nostra scelta è stata una scelta non solo coraggiosa ma anche molto positiva è una figura istituzionale però è anche un abruzzese il Teramo è l'unica rappresentante abruzzese sta cercando questa salvezza molto difficile secondo lei hai la possibilità di riuscire in questo? Beh credo che la matematica dia tutte le chance possibili quindi deve centrare questi risultati nelle prossime gare quindi speriamo che il Teramo continui a rappresentare l'Abruzza nella mia Liga è tutto anche per la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.